Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video dedicato a un nuovo progetto che abbiamo visto un po' di tempo fa ed è giusto secondo me andarlo a rivedere perché abbiamo sia una mainnet sia una testnet però attualmente la cosa importante è sicuramente la mainnet perché come sapete la mainnet è importante però di solito quando c'è la mainnet la testnet non c'è più, qua invece è un po' diverso la mainnet c'è perché comunque serve per accumulare punti ma c'è anche specialmente una testnet una testnet che è molto importante perché sarà incentivata e sarà suddivisa su più livelli quindi andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa dobbiamo fare se questi video vi piacciono lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella eccoci su bounce beat testnet in questo caso perché abbiamo già visto in realtà la parte della mainnet dove si può andare a depositare e poi andare ad interagire comunque con una situazione comunque a punti però c'è anche la bounce beat testnet che è questa che abbiamo qua davanti questa è collegata a che cosa? a delle missioni galxe che loro hanno fatto adesso quindi è la prima parte che hanno fatto quindi la fase 1 e adesso tra poco comincerà anche la fase 2 e dovete completare questa parte social e poi questo survey create your own bounce club qua sotto trovate il link che potete prendere e seguire la guida quindi è una cosa davvero molto molto semplice e questa qua è la testnet quindi che cosa si può fare all'interno della testnet? ci si può ovviamente collegare, connettersi adesso fermiamo ovviamente la situazione del welcome to bounce beat e qua noi, qua c'è la parte del clubs però la prima cosa che bisogna sapere in assoluto è avere dei token sulla rete bounce beat perché una volta che voi vi collegate qua sopra, eccoci qua, sarete comunque portati in questa pagina scusate questa pagina, questi token testnet che voi dovrete andare a prendere prendere dove? sul loro account discord qua una volta che voi entrate, se andate qua a testnet faucet, adesso io li avevo già ricevuti forse posso richiederli ancora potete riceverli così, richiederli e quindi riceverli quindi mandate, ok io ho già richiesto quindi 22 ore ho per richiederli perciò in questo caso non posso farlo infatti qua c'è bounce beat faucet, se cliccate sopra vi fa vedere poi dove poter andare a interagire anzi non lo fa vedere neanche qua, però comunque dovete andare su discord è inutile girarci attorno e quello che potete fare però una volta ricevuti i vostri token cosa che è molto importante è andare su app store, perché sulla parte dell'app store voi troverete tutte le app in testnet che potrete andare a utilizzare per interagirci quindi ad esempio bit swap, ok? possiamo andare qua sopra e andare ad interagire con questa chain con questo progetto bit swap, developed, vedete anche qua da bounce beat direttamente potrete andare ad interagirci qua ad esempio ci sono tutti quelli che ci hanno partecipato dovrebbero essere questi club vediamo un po', ok? Eccolo qua però si può andare ad utilizzare qualsiasi cosa a livello di dap come abbiamo visto la parte dello swap abbiamo la parte dello stake e poi anche la parte del leverage però bene, quindi come possiamo andare ad utilizzare queste cose? bene, dobbiamo una volta fatto il nostro clubs come da missione su GALX e dobbiamo andare a enter in my club io qua ho fatto il mio club faccio add an app quindi add an app vado a scegliere quale voglio aggiungere io ad esempio voglio bit swap questo qua che abbiamo visto quindi faccio add quindi add section ok, qua poi posso aggiungere tutte le varie cose ma ho l'app direttamente posso andare poi ad aggiungere bit stable ok, che è l'altro andiamo un po' se mi fa aggiungere anche la parte del bit staking eccolo qua anche questo qua secondo me è importante ok, quindi questo è quello che troviamo all'interno della propria dap quindi con tutte le varie descrizioni che noi possiamo andare a mettere il bit staking, vediamo un po', andiamo a mettere un po' di stake per andare quindi a mettere in stake andiamo prima su bit swap scegliamo ovviamente i token che abbiamo prima di tutto ok, quindi select payment currency, select selling ok, facciamo submit ok, token 1 e possiamo fare delle cose del genere quindi create token payers qua possiamo creare degli altri poi abbiamo bit stable create stable coin qua possiamo mettere quello che vogliamo quindi possiamo mettere un add file io metto sempre questo faccio used create e poi qua paghiamo le fees eccoci qua ok, in questo momento non ne ho abbastanza forse sì sì, dovrei averci impossibile perché ne ho 0,66 quindi venire fuori devono venire fuori ah no, 0,06 quindi no, niente ne ho fatti già fuori troppe quindi devo aspettare ad interagire perché ho bisogno del faucet in questo caso però sostanzialmente questa è l'interazione che possiamo fare bouncebit ha interagito ha creato comunque una raccolta di più di 10 milioni tra l'altro c'è OKEX che ha investito recentemente ma non hanno ancora specificato quanto quindi qua possiamo interagire sia sulla parte testnet sia sulla parte mainnet invece con capitali reali come potete vedere dal mio telegram quindi potete trovarlo direttamente lì vi metto sempre tutti i link in descrizione così che possiate ovviamente andare a leggervi tutto e analizzare tutto quanto fatemi sapere se già lo conoscevate se avete già fatto la testnet e se vorrete come abbiamo visto bouncebit ricade appunto nella sezione del restaking che in questo momento è una narrativa molto importante molto forte ma anche allo stesso tempo molto delicata perché bisogna stare sempre molto attenti perché insomma ci sono varie metodiche nelle quali ci si può un po' incastrare però l'abbiamo visto in lungo e largo e li rivedremo ancora perché vi porterò degli altri video fatemi sapere se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e accedete la campanella per rimanere sempre aggiornati grazie